Cari sorelle e cari fratelli, al termine di questo sinodo intenso come sempre vorrei esprimere prima di tutto una parola di gratitudine a Dio per il servizio che tante sorelle e tanti fratelli continuano a donare alla missione della nostra Chiesa, che non per caso è una unione di Chiese e già quindi nel proprio nome porta questo senso di unione, di unità. E desidero anche ringraziare il Signore per il sostegno e la comprensione che tutti questi fratelli e queste sorelle ricevono dalle loro famiglie che li accompagnano e portano la loro parte di lavoro in più per consentire a tanti di svolgere i loro servizi. Senza questo gran numero di fratelli e sorelle la nostra Chiesa non sarebbe quello che è una comunità cristiana solidale, fraterna, trasparente, con tutti i limiti umani e nostri particolari. considero un vero miracolo quello che avviene tutti gli anni, costantemente nella vita delle nostre Chiese, proprio grazie a questo gran numero di persone che si spende per questo servizio. vorrei unire quindi tutte queste persone, non soltanto coloro che in questo sinodo hanno concluso un servizio a cui sono state chiamate dal sinodo, ma appunto tutte coloro che sono nelle nostre Chiese, nelle nostre comunità, nelle nostre istituzioni e opere, nel ringraziare in modo particolare, chi ha servito nella tavola e conclude oggi il suo servizio. Adriano Bertolini, prima di tutto, che non ha potuto partecipare a questa assemblea perché sta combattendo una dura battaglia contro un male che lo ha assalito. Daniela Manfrini e Ruggero Mica. Il servizio nella tavola, cari sorelle e cari fratelli, è molto impegnativo e questo credo che lo possiate immaginare per le modalità di lavoro, il gran numero di impegni che si hanno e anche per i contenuti di questo lavoro. Si deve, come si dice nelle nostre discipline, amministrare in senso lato, ampio, le risorse della nostra Chiesa, le risorse comuni, soprattutto quelle umane, per l'oggi e pensando anche al domani. A quale sarà e come sarà il nostro domani. Pensando agli sviluppi futuri che potranno essere di decrescita, come molti temono, ma che potrebbero essere anche di crescita, come vorremmo sperare. Dobbiamo dunque pensare di amministrare non soltanto tenendo conto del presente, ma provando a proiettarci nel futuro compito non facile e non sempre compreso. Adriano, Daniele e Ruggero si sono spesi molto per il servizio alle nostre Chiese e ricordo loro, volendo ricordare anche tutti e tutte le altre, loro sono in questo momento l'esempio, diciamo, di altri, e lo hanno fatto come tutti con le loro caratteristiche, con i loro doni, inserendosi nel lavoro collegiale della tavola, facendo bene e anche sbagliando, come accade a tutte e a tutti coloro che servono nella Chiesa. Facendosi capire e anche no, come accade sempre, purtroppo, nelle dinamiche del nostro corpo ecclesiastico. Dicendo dunque questo grazie a Adriano, che non è presente, a Daniela e Ruggero, che invece lo sono, vorremmo ringraziare appunto tutte le nostre sorelle e fratelli che si spendono per questo servizio. Andiamo a fare un applauso. Lo abbiamo ripetuto spesso, io lo ripeto spesso e voglio ripeterlo anche in questo momento, viviamo tempi difficili. Alla crisi economica e sociale che continua a frustrare le speranze degli europei e degli italiani in particolare, ricordo l'assessore Pentenero lunedì sera, che al termine del suo discorso ci ha fatto capire, è dura, la situazione è difficile, si aggiungono, purtroppo la cronaca di queste ultime settimane tremenda, le guerre in nome di Dio. Lo pronuncio con la minuscola Dio. Possiamo dire che è un orrore blasfemo? un orrore blasfemo nel quale cupi guerrieri mascherati, forse si vergognano, invocano un Dio minuscolo, senza amore, violento e vendicativo. Un Dio che non ritroviamo in nessuna scrittura rivelata, ma solo nelle menti deliranti di chi cerca una legittimità che nessun Dio gli può dare. Uccidere, violentare e torturare nel nome di una fede è un abominio. E tutti noi dobbiamo denunciarlo come tale, come un peccato blasfemo che offende il volto e il cuore di Dio. È un virus feroce, diciamo, dei fondamentalismi, che come un'erba cattiva, questo virus, cresce anche nei nostri orticelli europei. Non è un problema di qualcuno che sta ai confini della nostra Europa, lo è. Ma anche in casa noi abbiamo il virus di questi problemi e di queste tragedie. Antisemitismo, nazionalismo, xenofobia, omofobia, in una parola pregiudizio. Su di noi, uomini e donne di fede, più che su altri, ricade il compito di vigilare e contrastare questo virus, sempre risorgente, perché distrugge il seme della buona notizia che noi umilmente cerchiamo di spargere. Viviamo tempi difficili anche come istituzioni ecclesiastiche, come chiese protestanti della vecchia Europa e anche della vecchia Italia. Secolarizzazioni varie, multiculturalismo, globalizzazione, nuovi linguaggi, hanno sconvolto percorsi e identità consolidate nei corpi ecclesiastici di tutte le chiese europee, almeno di tutte quelle di antica tradizione e istituzione, comprese quelle cattoliche e ortodosse. Anche in questo sinodo, penso per esempio al saluto del pastore Pajar, presidente del consiglio sinodale della chiesa riformata del cantone di Vodin, Svizzera, c'è stato raccontato come le chiese sorelle in Europa stanno affrontando riduzioni anche profonde di risorse umane e finanziarie, riorganizzazione di strutture ecclesiastiche e organismi territoriali, riducendo a volte in modo drastico il numero dei luoghi di culto e cercando di affrontare la perdita verticale di udienza sociale. Viviamo tempi difficili. Lo ripetiamo però non per farci deprimere, ma per essere lucidi sulla nostra situazione e non coltivare false illusioni. Sono tempi difficili. Ma appunto non ci vogliamo deprimere, anzi, grazie a Dio, anche in questo sinodo abbiamo potuto constatare che non abbiamo perso la fiducia, non abbiamo perso la speranza, non abbiamo perso la voglia di progettare e di impegnarci. Basterebbe pensare alla breve riflessione che è il dibattito di questa mattina sui giovani. Un po' qua e un po' là. Sta accadendo in tutta Europa e anche nella nostra piccola, ripeto, unione di chiese. Noi siamo una chiesa che è un'unione di chiese, metodiste valdesi. Anche noi stiamo provando a ripartire con la missione che abbiamo ricevuto dal maestro. Proviamo a ripartire, per esempio, con la settimana di evangelizzazione che ci ha fatto riscoprire, a volte con stupore perché non ci credevamo davvero, la gioia di proporre al di fuori delle mure ecclesiastiche la condivisione del cammino della fede. Ci proviamo con la spinta a integrare in una comunità solidale e inclusiva, uomini e donne, giovani e anziani, nativi italiani e di altri continenti presenti stabilmente nel nostro Paese. Proviamo a ripartire anche con un nuovo sforzo di comunicazione verso l'esterno che è fondamentale per il nostro futuro prossimo. Con riforma che si fa in quattro, cercando di incontrare nei vari territori quel popolo di contribuenti che ci affida l'otto per mille e che tra noi può trovare anche la sua casa spirituale. Perché no? Proviamo a ripartire anche con una sfida rinnovata sul piano ecumenico e interreligioso, in particolare con i segnali di nuova fraternità che ci giungono da vari livelli della Chiesa cattolica romana, che apprezziamo e che ci impegniamo ad approfondire, come ha deciso il Sinodo quest'anno. Insomma, ci stiamo nuovamente provando con modalità e dei linguaggi che non sono più quelli di ieri e probabilmente non sono ancora quelli di domani, perché in poco tempo la nostra generazione ha la necessità di costruire un nuovo orizzonte di riferimento, il più possibile condiviso, in sostituzione di quello precedente che, dobbiamo riconoscere, si è stratificato nel corso di secoli, non di anni, di secoli. È un compito difficile, tornano le difficoltà, non ci facciamo illusioni. Noi non vogliamo staccare il nostro legame con il passato, il meglio del passato, che ha saputo legare, antidoto a quel virus di cui parlavo prima, fede e ragione, cultura e teologia, identità e apertura ecumenica, amore per la libertà e per i diritti di culto e religione insieme alla libertà e i diritti della coscienza e della persona umana, tipiche del protestantesimo liberal, dicevo l'anno scorso, liberale, non in senso però conservatore ma progressista, di cui le nostre chiese fanno chiaramente parte. Noi non vogliamo staccare il nostro legame con il passato, ma sappiamo che ora è necessario e urgente un cambiamento profondo, che deve essere però il più possibile coerente e non approssimativo per non perdere credibilità, autorevolezza e udienza sociale. Non possiamo fare facili le cose complicate. In questo siamo un po' come i nostri fratelli migranti. Dobbiamo partire, dobbiamo partire da una terra sempre più povera e senza futuro, senza prospettive, verso una nuova terra da cui ci si aspetta comunque il meglio o almeno il senso del nostro essere testimoni di una fede antica eppure sempre nuova, vissuta non in solitudine ma in una comunità di fratelli e sorelle senza dimenticare la nostra responsabilità sociale. Perché siamo una chiesa cristiana protestante. Ancora una volta affrontiamo questa fatica della testimonianza evangelica con l'incoraggiamento della parola apostolica che promette, la vostra fatica non è vana, non è vuota nel Signore. Prima Corinzi 15, 58, ma soprattutto con la certezza che si adempia anche per noi oggi la promessa di Dio, di Isaia 55, la mia parola non torna a me a vuoto senza avere compiuto ciò che voglio e condotto a buon fine ciò per cui l'ho mandata. Non torna a me a vuoto, dice il Signore. E vorrei concludere, cari sorelle e cari fratelli, richiamando il versetto guida della settimana di evangelizzazione di quest'anno. Dio che dà speranza vi riempia di gioia. Noi non siamo una chiesa depressa. Noi non siamo senza speranza. Non solo perché, come ricorda un giorno una parola del 21 agosto citando un pensiero della mia predecessora, Maria Bonafede, avere perso la speranza significa essere perduti, seppelliti in sepolcri senza più vita. Non solo per questo che è vero, ma soprattutto perché siamo convinti che credere in Dio e sperare sono la stessa cosa. Come puoi essere un credente in Dio e non sperare? La speranza è un dono di Dio elargito anche nel nostro tempo, anche alle nostre chiese, nonostante, come dichiara la confessione di Fede Valdese del 1655, che non dimentichiamo, come qualcuno crede, nonostante nostra povertà e piccolezza, dove però petitesse non significa soltanto un piccolo numero come i valdesi sapevano già di essere nel 1600. Tanto che la traduzione in italiano del 1662 dice povertà e bassezza. Sappiamo di non avere nulla di cui vantarci. Sappiamo i nostri limiti. Cerchiamo di conoscere e confessare il nostro peccato. Nonostante ciò speriamo. nonostante ciò siamo nella gioia per compiere il nostro servizio di umili testimoni dell'Evangelo per l'umanità di oggi, proprio perché siamo resi forti e fiduciosi della speranza che per grazia di Dio e Gesù Cristo riceviamo questa speranza ogni mattina con il sostegno dello Spirito Santo. Dio che da speranza vi riempia di gioia. Il versetto guida della settimana di vigilizzazione di quest'anno. Vorrei che ci lasciassimo questo sinodo ricordando questa parola di speranza e di gioia questa parola apostolica e che il Signore ci benedica e ci guardi. Grazie. 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 Grazie a tutti.